E allora possiamo partire, buona serata e benvenuti a otto anni da sindaco, ringrazio chiaramente le persone che sono presenti e saluto anche tutte quelle che sono collegate in diretta su Rossini TV Canale 80 e quelle che sono collegate sulla diretta Facebook della pagina del Comune di Pesaro. Il protagonista di questa serata è chiaramente il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, buona serata, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti, grazie Emanuela, grazie Maurizio per aver accettato il nostro invito. Presento anche Maurizio Blasi, ex direttore del TGR Marche, grazie Maurizio per accompagnarmi in questo viaggio. Andiamo indietro nel 2014, appena eletto sindaco di Pesaro Matteo Ricci come primo provvedimento decide di togliere le auto dalla vicinissima piazza Toschimosca, trasformarla in una sorta di bomboniera. Oggi quindi è stata scelta proprio questa location per partire da quel momento, quel momento sindaco fu un po' il manifesto del suo decisionismo, insomma di decidere le cose e farle e tirare dritto. Sicuramente un sindaco come spesso dico deve avere anche la capacità di decidere soprattutto di non fermarsi alla prima protesta, soprattutto se si è convinti di essere coerenti con un'idea di città. Quando abbiamo tolto le macchine in piazza Mosca e oggi siamo qui anche grazie alla casetta Vaccai che organizza il martedì questa bellissima iniziativa al San Pietrino, non è che l'abbiamo fatto perché ce l'avessimo con coloro che abitano qui intorno, con Marcello Ciamaglia che abita lì nell'angolo, ma perché avevamo fatto tutta una campagna elettorale dicendo che avremmo costruito un pezzo di economia nuova sulla cultura e sul turismo e in particolar modo sulla bellezza, sapendo che noi non potevamo più essere quelli di prima perché dopo la crisi immobiliare 2008-2009 c'eravamo fortemente impoveriti e sapendo che su questo settore facendo leva sulla bellezza potevamo costruire un pezzo di futuro nuovo. Oggi siamo diventati capitale italiana della cultura, è lo stesso ragionamento. Il ragionamento del 2014 è esattamente quello che ci ha portato a diventare capitale italiana della cultura. Per questo una città che scommette sulla bellezza non può avere le macchine davanti ai musei della città, non può avere le macchine davanti al conservatorio, non può avere le macchine nelle vie d'ingresso del centro storico, non può avere le macchine della polizia parcheggiate in piazza del popolo, via le macchine. E quindi abbiamo avuto proteste, ma adesso le persone che sono qua intorno, spesso e volentieri mi ringraziano anche perché il valore della loro abitazione è addirittura aumentato. Se mi fossi fermato alla prima protesta, oggi noi non avremmo Piazza Mosca come uno dei luoghi più belli, più magici della città. Maurizio, a te la parola. In queste ore si chiacchiera dei risultati delle recenti elezioni amministrative. Arriviamo a parlarne giocando di rimbalzo. Febbraio 2020 parte il, lo definisco così, il campo largo in salsa pesarese. Credo con un debutto su scala nazionale, il sindaco Matteo Ricci decide di cambiare il clima di rapporto con il mondo del Movimento 5 Stelle, la tua competitor 5 Stelle diventa assessore nella tua giunta. Non ti voglio chiedere che ne pensavano altri ambienti del PD, magari qualcuno non era antisiasta ad un'idea del genere, storicizziamolo, stiamo a febbraio del 2020. Ti chiedo, quel campo largo in salsa pesarese che fece scandalo all'epoca, poi mi pare abbia dato i suoi frutti. Dopo le ultime elezioni, quelle davanti ieri, vale ancora? Ma intanto col senno di poi è stata un'ottima operazione, perché non solo abbiamo allargato la maggioranza, ma Francesca Frenquellucci sta facendo un ottimo lavoro, sta lavorando tanto, si impegna, aggrega, cerca di dare il massimo e quindi, come dire, la squadra si è rafforzata. Ma io credo che dobbiamo uscire dall'ipocrisia politica che c'è. Chi non vuole, chi vuol costruire un fronte alternativo a quello che sta costruendo la Meloni, deve stare in alleanza col Partito Democratico. Non è che c'è altra strada. Soprattutto se non cambia la legge elettorale. Perché se cambiasse la legge elettorale, cosa che in verità, come sindaci del PD, diciamo da almeno un anno, in chiave europeista, io dico, perché le leggi elettorali che in Europa funzionano sono due, quella francese con l'elezione diretta, ma quella è impossibile da fare in pochi mesi, perché serve una riforma costituzionale. Quindi in Francia hanno votato col doppio turno, ma c'è l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, cioè di Macron, il capo dello Stato. È oggettivamente impossibile fare una riforma costituzionale in pochi mesi. Se mai ce ne fossero le condizioni politiche. L'altro sistema elettorale che funziona è quello tedesco. Quello tedesco è un sistema elettorale proporzionale, ma con uno sbarramento alto al 5%, che semplifica il quadro politico, per cui ogni forza politica si presenta con la propria identità e in base al primo partito si prova a costruire una coalizione il giorno dopo di governo. Le ultime elezioni, l'Espede è arrivato prima del partito popolare della CDU tedesca, ha avuto l'incarico di formare il governo e per la prima volta, almeno negli ultimi decenni, l'Espede governa insieme ai verdi e ai liberali. Io penso che questo sia il sistema elettorale migliore in assoluto. Per l'Italia in questo momento avrebbe anche una funzione di rigenerare le forze politiche, come dire, che sono più o meno tutte in difficoltà. Se però la legge elettorale non verrà cambiata, e a oggi è molto probabile che non verrà cambiata, in vigore c'è questo maledetto Rosatellum, che purtroppo abbiamo fatto noi, quindi come dire, ma dico maledetto perché il Rosatellum è un sistema ibrido ma che ti obbliga a coalizzarti, perché un terzo dei seggi viene assegnato con collegi maggioritari. E quindi anche qui a Pesaro, se nel 2023 non faremo una coalizione al maggioritario che va dai 5 stelle fino a Calenda, il collegio lo vince la destra. Vorrei che fosse chiaro a tutti. Quindi non è che si può fare gli schizzinosi, a meno che si voglia far vincere la destra, legittimo. Ma siccome non è una destra moderata, è una destra che ha una leadership sempre più radicale ed estrema, io penso che occorre ragionarci e nei prossimi mesi fare di tutto affinché intorno al Partito Democratico si costruisca un'alleanza larga. Quindi le amministrative in verità dicono che non c'è altra soluzione a questo. A meno che, ripeto, si cambi la legge elettorale o a meno che si dia per persa la partita in partenza. Ma insomma, io vorrei evitare che le forze europeiste, perché il tratto comune di queste forze, che sono molto diverse, di certo l'europeismo, possano essere maggioritarie nel Paese. Quindi avremo sicuramente settimane e mesi di discussioni, però a volte si fa una discussione abbastanza surreale senza tener conto della realtà. Senza tener conto della realtà. Non è che il PD può scegliere Ocalendo e Cinque Stelle. Il PD, se sceglie Ocalendo e Cinque Stelle, perde. Siccome io voglio vincere, non mi piace perdere neanche a brisco le 3-7, suggerisco, come dire, di costruire un'alleanza la più ampia possibile o di cambiare la legge elettorale. Ma anche se si dovesse cambiare la legge elettorale e il PD dovesse essere il primo partito, il giorno dopo, con chi fa il governo il PD? Lo farà con le forze più affini. Quindi, a volte in Italia facciamo una discussione abbastanza surreale e credo che, nonostante tutto, letta il PD debbano essere molto determinati a portare avanti una linea unitaria. Isolati, abbiamo già visto nel 2018 cosa succede, si perde. Se non siamo isolati e costruiamo un programma credibile, magari anche il governo del paese, come il governo della città, può avere un segno progressista e riformista. Ecco, ritorniamo nella città di Pesaro. Sindaco, facendo un'analisi sincera, un'autocritica di quelli che sono stati questi otto anni. Ci sono stati dei momenti molto difficili. Voglio ricordare, ad esempio, l'incendio sul San Bartolo e chiaramente la recente pandemia. Guardando indietro, riaffronterebbe quelle situazioni così come le affrontate allora? Ma l'incendio sicuramente sì. Devo ringraziare Lothar. Dov'è Lothar? Laggiù in fondo. Eravamo in giro. Mi avevano avvisato che c'era un incendio sul San Bartolo, ma non ne avevo colto la gravità. Allora, eravamo a Baia Flaminia, a un certo punto stava arrivando la notte, si vedeva al fuoco la Baia Flaminia. Lui mi ha detto, sarà meglio che andiamo su a vedere. Quindi abbiamo abbandonato la serata, abbiamo passato la notte con il motorino insieme ad Andrea Biancani e agli amici di Fiorenzuola e della comunità del parco a gestire l'incendio. È stata una grande ferita, abbiamo rischiato grossissimo, perché se i visili del fuoco non fossero riusciti a tenere il fuoco sotto la falesia e non avessimo avuto la garanzia da parte della protezione civile e dei Canadair per spegnere l'incendio all'alba, noi avremmo avuto dei danni molto più ingenti. Danni anche alle abitazioni, non solo all'ambiente, a Fiorenzuola, a Castel di Mese, quindi è stata una giornata davvero tragica. Però dopo 24 ore riuscì a chiamare il Ministro dell'Ambiente, all'epoca era Galletti, e venne il Ministro dell'Ambiente dopo un giorno, un giorno e mezzo, e garantì i 5-6 milioni con i quali in questo momento si sta sistemando la falesia. Perché abbiamo subito capito la mattina dopo che oltre al danno ambientale evidente, perché tanta vegetazione era andata a fuoco, il problema successivo sarebbe stato il dissesto idrogeologico. Perché ovviamente le piante non reggono più il terreno e in più si erano danneggiate tante reti di contenimento che erano riuscite a mantenere la faliesia negli anni. Grazie a questi interventi che si stanno realizzando, noi salveremo Fiorenzuola, salveremo Castel di Mese, e adesso uno dei progetti sui quali stiamo lavorando è anche quello di sistemare la strada del mare, cioè la strada che va verso la spiaggia, sulla quale abbiamo ottenuto anche un finanziamento ingente. Quindi in quel caso diciamo l'unica cosa che potevo fare prima è evitare di andare a Baia Flaminia e di andare direttamente sul San Balto. Per fortuna Lothar mi ha fatto rasonare, quindi ho perso poco tempo. Sulla pandemia è facile, come dire, mi hanno anche attaccato ai primi giorni. Ai primi giorni nessuno non ha capito niente. Sembrava che dopo pochi giorni l'emergenza potesse rientrare e quasi tutti i sindaci hanno cercato di tenere viva la città, di tenere aperta la città, di evitare che le persone andassero nel panico. E poi nel giro di pochi giorni invece siamo stati travolti dalla tragedia. Col seno di poi è evidente che non avrei avuto un attesamento più prudente, però è anche vero che gli orientamenti si prendono nel momento in cui hai le informazioni. In quel momento le informazioni erano di ridimensionamento dell'emergenza. Appena abbiamo capito che cosa stava succedendo, soprattutto chiamati da quelli che erano al pronto soccorso, a partire da Gnudi e tanti altri, ovviamente abbiamo addristato subito il tiro e ci siamo messi pancia a terra per aiutare le persone per in qualche modo stare vicino alle tante famiglie che stavano soffrendo e che avevano i propri cari all'ospedale o addirittura già deceduti. Quindi è stata un'emergenza che nessuno poteva immaginare. Quelli che dicono che si poteva immaginare sono i famosi dietrologi del quale il nostro paese e anche la nostra città è piena. Ma in quel momento lì nessuno sapeva che sarebbe arrivata una pandemia e quindi si cercava in qualche modo di resistere. Dopodiché abbiamo dato il massimo perché abbiamo sostenuto le famiglie in tutti i modi abbiamo distribuito i buoni pasto abbiamo distribuito le mascherine quando non c'erano le mascherine le mascherine per i bambini per farli tornare nei parchi i saturimetri le persone più anziane ne abbiamo inventate di tutti i colori i bonus per i ragazzi che non andavano a scuola quindi davvero grazie a una rete di volontari straordinari abbiamo fatto tutto ciò che si poteva fare durante un'emergenza come quella e credo che i pesaresi ce l'abbiano anche riconosciuto prego Maurizio volevo infierire ancora sul campo largo perché vai vai infierisci infierisci pure pur non essendo la materia della quale si occupano le persone normali che sono più attratte dall'inflazione o dalla sanità ne parliamo tra un altro tra un attimo però sai come dicono dalle parti mie mi fa un po' brutto a sentire che si fa il campo largo perché non si può fare altro la legge elettorale non si può cambiare non c'è tempo non c'è voglia e c'è uno sbarramento in Parlamento che conosci meglio di me Calenda si fa bruciare in piazza piuttosto che respirare lo stesso ossigeno dei grillini come si fa tenerli insieme non lo so dall'altra parte vedo passo dal grande al piccolo una storia curiosa a Fabriano dove contro ogni pronostico il PD vince al primo turno con una candidata che si chiama Daniela Gergo che gioca contro la lista dei grillini e gioca contro la lista della sinistra radicale sconvolge tutti i pronostici nella città più sfortunata delle marche con 800 posti di lavoro persi in due anni spero non ci sia nessun sindacalista se sbaglio qualche numero chiedovenia conta la sostanza dove secondo il copione della sociologia politica ci dovrebbe essere la disperazione la gente che piange che si butta a destra che va via di pancia di rabbia il PD sconvolge i pronostici vince al primo turno vince alleandosi con le liste civiche magari mi viene da pensare si vince anche con i programmi e con il rinnovamento delle facce e si riesce a far passare meglio il campo largo se lo si presenta non tanto come un'alleanza tra sigle ma come un ideale per il quale appassionarsi intanto Maurizio bisogna evitare di confondere le elezioni politiche con le elezioni amministrative perché questo è un errore che le forze politiche fanno spesso ed è un errore essenziale perché quando ci sono gli amministrativi scusa questa l'ha detta anche Salvini alla Meloni esattamente sì sì no ma è così sono cioè vuoi dire non è che se uno una volta è d'accordo con Salvini alla Meloni succede qualcosa può capitare diciamo perché la gente sceglie i sindaci nel 2019 ha scelto i sindaci e gli amministratori non è che ha scelto i partiti poi ovviamente ha scelto anche i partiti ma innanzitutto sceglie da chi farsi governare e in queste tornate amministrative vincono coloro che sono più forti più radicati più popolari con i programmi e le idee più convincenti e vincono i sindaci che ha governato bene Bucci a Genova non è che ha vinto perché tra l'altro la sua lista civica ha preso il 20% non è che ha vinto perché era sostenuto dalla Lega certo ha vinto perché era sostenuto dalla Lega ma perché i genovesi hanno riconosciuto che dal ponte di Genova in poi ha governato bene e così vale per gli altri Padova Padova non è di certo una città di sinistra il sindaco uscente Zordani ha vinto al primo turno col 58% perché ha vinto al primo turno col 58% perché era del PD no perché è governato bene quindi intanto le amministrative sono fatte così dopodiché non è che si può montare sopra come ha fatto Calenda in queste ore ai candidati a sindaco perché dice ma perché all'Aquila il nostro candidato ha preso il 27% no lui ha preso il 27% dopodiché se tu l'hai sostenuto sei te che hai usufruito del suo sostegno non il contrario tant'è che oggi per fortuna ci sono istituti come Utrend che fanno un lavoro importante laddove azione si è presentata con la sua lista simbolo di partito ha preso lo 0,6 di media ok se tu prendi il voto di lista il partito democratico nei capologhi di provincia ovviamente ha preso il 17,4 il Movimento 5 Stelle il 2 Fratelli d'Italia il 10,3 la Lega il 5,9 Forza Italia il 4,7 dopodiché hai civiche di centrodestra 22% civiche di centrosinistra 20% ma quel 22 e quel 20 non se lo può prendere nessuno non è che se lo propone è come se noi dicessimo ah il PD ha preso il 17,4 più il 20 delle liste civiche di centrosinistra ma mica funziona così quindi calma io non credo che ci siano spazi per terzi poli in Italia l'abbiamo già visto ripeto se il sistema elettorale è questo l'abbiamo già visto ci ha provato Monti gli è andata male quindi io penso che sia compito di chi ha come dire la golden share della coalizione ed è evidente che la golden share della coalizione c'era il PD di provare a costruire un'alleanza la più ampia e la più compatta possibile facile complicatissimo però siccome si vota marzo non si vota domani a meno che ci siano elezioni anticipate io penso che noi dobbiamo lavorare in questo senso a Pesaro abbiamo fatto un lavoro in questo senso e oggi siamo più forti e più credibili non è che siamo meno forti e meno credibili anzi mi piacerebbe che magari qualcuno delle liste civiche che abbiamo in consiglio potesse aderire ad azione di calende in modo tale che già in consiglio potremmo già avere diciamo quell'alleanza larga alla quale faccio riferimento io in verità guarderei anche un pezzo di Forza Italia ma è un auspicio o ci stai lavorando? io faccio un ragionamento abbastanza semplice c'è in questa fase storica un discrimine tra la coalizione e l'europeismo la destra è attrazione sovranista perché la Meloni e Salvini i leader i riferimenti politici di Salvini e la Meloni negli ultimi anni sono stati Trump e Putin uno ha dato l'assalto a Capitolile l'altro ha invaso l'Ucraina ok io penso che ci sia un'altra impostazione europeista e che l'europeismo sia un nuovo discrimine politico tant'è che dentro Forza Italia c'è grande malumore la Gelmini piuttosto che la Carfagna piuttosto che Brunetta perché pur essendo moderati di centro-destra non si ritrovano in una coalizione con quel traino lì quindi insomma il sistema politico è in grande evoluzione bisogna avere la calma dell'unità l'unità si costruisce con calma io sono convinto che non dobbiamo avere una grande capacità unitare in una fase così complicata poco fa abbiamo parlato accennato un po' a quello che è stato fatto in questi otto anni mettendo in evidenza le criticità adesso però io vorrei soffermarmi sui progetti che sono previsti e sui tanti fondi del PNR in arrivo l'amministrazione comunale ha creato anche un sito che si chiama pesaro che cambia punto it dove sono praticamente indicati luoghi e finanziamenti ottenuti e sono numerosi gli interventi da fare la mia domanda è questa non è che nel 2024 ci troveremo una pesaro un po' impacchettata dalle impalcature cioè c'è questo rischio perché pesaro capitale della cultura è un'occasione grandissima da cogliere al volo Vimini sta commentando giustamente in prima fila magari vorrebbe dire che quindi sono progetti che andranno più avanti vorrebbe dire che le tante risorse che abbiamo ottenuto si trasformeranno a breve in cantieri e questo è il vero il vero dubbio dei prossimi mesi cioè la velocità con la quale riusciremo a trovare a tramutare in cantieri di conseguenza in lavoro in economia in trasformazione urbana le tante risorse che abbiamo portato non so se riusciamo a mettere il salvadanaio della quindi questo rischio non c'è insomma no ripeto vorrei che ci fosse non lo so vorrei che ci fosse vorrebbe dire che tanti cantieri sono partiti presto no possiamo rifare mi piace da matti il conteggio quello che parte da zero ecco il salvadanaio questo salvadanaio è quello che mi piace più di tutti perché perché non fa sembra che c'ho la clac non lanciare l'applauso da lì questa intanto vi invito a prendere dimestichezza con questo sito è molto semplice peserochecambia.it come vedete ci sono i lavori finanziati i lavori in corso e i lavori completati i lavori completati sono 51 ovviamente abbiamo messo solo i lavori più grossi non i lavori più piccoli mi hanno detto che oggi qualcuno dei consiglieri di quartiere voleva mettere in marcia piedi di Vismara ma mi hanno dato il messaggio Filippo abbiamo messo solo i lavori più grossi cioè non i lavori di ordinaria manutenzione 51 lavoro completati 10 lavori in corso 77 finanziati complessivamente il salvadanaio è arrivato ad una cifra spropositata impensabile che io mai avrei sognato di poter avere a disposizione della città che è 1600 milioni di euro 1 miliardo 600 milioni di euro è una cifra pazzesca pazzesca quando nel 2016 siamo riusciti a sbloccare il patto di stabilità avevamo sbloccato 20 milioni di euro quindi vorrei che fosse chiaro 20 milioni di euro 1600 milioni di euro è una cosa che fa paura perché ci rendiamo conto che è una mole di finanziamenti spaventosa ovviamente la parte più consistente è il tema della forvia credo che dopo lo affronteremo che è un miliardo e due però anche il resto e 459 milioni di altre opere capite che è una cifra esagerata solo 10 sono in corso Emi io vorrei che quel 10 diventasse 77 il prossimo anno se la facciamo la vedo dura vorrebbe dire che dei 77 lavori finanziati tanti di quelli saranno in corso qui c'è il problema strutturale che non è solo nostro è un problema strutturale del paese ed è un problema anche di questa fase storica legata all'inflazione il problema strutturale del paese che è la lentezza io mi arrabbio continuamente con i miei uffici con i miei funzionari e per fortuna ho un'ottima squadra a volte sono anche troppo duro me ne rendo conto ma si rischia di perdere la pazienza perché per fare una cosa ci vogliono mesi anni solo nelle procedure solo nei pareri e adesso c'è un tema che è molto importante che è legato all'inflazione che stiamo ponendo con forza al governo e che mancano le imprese ti ho anticipato la domanda io e te siamo fatti per capire ok mancano le imprese questa è la novità degli ultimi mesi perché quando è stato approvato il PNRR l'anno scorso l'inflazione era sotto l'1% oggi l'inflazione è al 7% che cosa succede che tutti i cantieri costano almeno il 20% in più e le imprese che in genere sono le stesse che fanno sia lavori pubblici che edilizia privata stanno tutte sul 110 perché è fortemente conveniente e scappano dai lavori pubblici abbiamo fatto un appalto per la nuova scuola a Soria 6 milioni di 8 aziende che hanno partecipato 7 sono fuggite quella che è rimasta diciamo non è proprio il massimo diciamo così e quindi capite che è un problema vero questo e mancano i lavoratori abbiamo fatto l'altro giorno un focus su Roma Roma oltre ai fondi del PNRR avrà i fondi del giubileo perché il 2025 c'è il giubileo a Roma nel 10 anni fa c'erano 44 mila addetti alla cassa edile cioè muratori adesso sono 22 mila e chiunque di noi se domani io ho compreso se domani volessi andare a fare un altro lavoro con la volontà lo puoi fare ma il muratore no il muratore bisogna saperlo fare quindi c'è un problema di formazione c'è un problema di flussi migratori chi ha lavorato nell'edilizia nei nostri territori negli ultimi anni veniva soprattutto dall'Albania alla Romania in Albania l'edilizia adesso tira e molti che hanno fatto gli operai qui hanno aperto la propria attività in Albania c'è un problema strutturale nel paese e non è che noi come sindaco abbiamo lanciato questo allarme perché siamo più intelligenti degli altri perché le vediamo prima le cose siamo i primi a fare le gare d'appalto abbiamo visto che l'inflazione ha cambiato tutto quindi stiamo proponendo dei correttivi al governo anche domani sarò a Palazzo Chisi per questo e poi magari se vogliamo ne parliamo insomma Maurizio scusa prima di passare a un altro argomento visto che parliamo di ristrutturazioni vogliamo spiegare come funziona Emi prima di partire fate vedere ragazzi la schermata con le bandierine non ci sono le bandierine cosa? ah è fissa l'immagine fissa? ah ok vabbè allora guardiamo dopo dai 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 guardiamo dopo comunque nel frattempo parliamo di ristrutturazioni eccetera alcuni telespettatori di Rossini TV insomma mi hanno mandato un po' di domande e soprattutto vorrebbero sapere come stanno andando queste tre queste tre strutture la nuova questura il vecchio palazzetto dello sport e il nuovo il prossimo vediamo insomma Museo Nazionale della Motocicletta per il quale arriveranno due milioni quindi a che punto siamo con questi tre progetti? sì allora intanto rispondo eh qui in questo sito Pesaro che cambia punto non è che trovate le idee strampalate del sindaco o i progetti qui trovate solo le cose finanziate i progetti per i quali abbiamo avuto il finanziamento e i soldi in cassa quindi è uno strumento molto concreto trovate bagnierine di tre colori i rossi sono in corso gli azzurri sono i finanziati e i blu sono quelli fatti dove trovate delle aree vedete il centro storico ovviamente ci sono 17-9 interventi anche uno vicino all'altro è molto semplice basta cliccare vi si apre la scheda progetto vai a vedere prova ad andare a vedere sul museo della motocicletta se riesci facciamo un esempio via San Francesco c'è la connessione lenta però questo è in corso vabbè ragazzi quando siete pronti va col macinino girate il macinino la connessione va col macinino allora rispondo alle tre sì nuova questura nuova questura la novità è degli ultime settimane come non so se avete seguito ma la vicenda è lunghissima perché diciamo chi lavora in questura non voleva spostarsi dal centro quindi per anni c'è stata questa discussione nuova questura ma in centro poi per anni si è fatta la discussione sulla nuova questura senza i soldi cioè si discuteva con i soldi del monopoli quindi grandi discussioni sul nulla poi a un certo punto siamo riusciti la faccio breve a convincere il demanio ad investire sulla questura dopo che avevo provato per anni all'epoca ero presente alla provincia a chiedere un pezzo della caserma militare per la questura senza successo l'agenzia del demanio aveva puntato sull'ex intendenza di finanza già di proprietà dello stato poi è cambiato quest'anno l'anno scorso il direttore dell'agenzia del demanio ha cambiato idea all'ex intendenza di finanza ci faranno gli uffici dello stato catasto piuttosto che altro perché vogliono risparmiare gli affitti e quindi sembrava che il tema della questura fosse ormai abbandonato noi abbiamo proposto due aree dove fare la questura lungo gli interquartieri ma questore e sindacati hanno detto di no a quel punto grazie al direttore del demanio regionale Cristian Torretta bravissimo siamo tornati alla carica col ministero della difesa e grazie alla disponibilità del ministro Guerrini e del generale Caccomo oltre che del comandante del reggimento Pavia siamo riusciti ad ottenere la disponibilità di due palazzine una è proprio quella davanti all'ospedale e una subito dietro non la si vede dalla strada e quindi ci sarà una parte perimetrata della caserma che verrà recintata e destinata a questura il demanio destina per questa opera 13 milioni di euro 13 milioni di euro per la questura e 7 milioni di euro per l'agenzia del demanio per l'ex tendenza di finanza tutte cose che vedete nelle schede che andiamo a trovare siamo in attesa della data del ministro Guerrini che vorrebbe esserci per la firma del protocollo quindi diciamo entro il mese di luglio firmiamo il protocollo tra tutti i soggetti interessati comune ministero degli interni agenzie del demanio ministero della difesa un'operazione complicatissima neanche io pensavo che ci saremmo riusciti e invece è molto importante perché utilizza un pezzo di caserma non sempre utilizzata è un patrimonio dello Stato si trasforma il costruito siamo in centro ma nella viabilità principale della città vicino alla stazione davanti all'attuale ospedale quindi insomma collocazione perfetta mette tutti d'accordo e finalmente potremmo avere nei prossimi anni anche una nuova questura Palazzetto Palazzetto è il cantiere che più di altri ci fa arrabbiare perché a proposito di difficoltà come dire non tutte le gare vanno come si vorrebbe adesso sta uscendo la ditta che ha vinto l'appalto che ha finito la parte strutturale ma il palazzetto non è finita e quindi abbiamo dovuto mettere altri soldi del comune per finirla e a breve faremo la gara per finire ciò che ancora non è finito in modo tale che si possa finire inaugurare il prima possibile il lavoro strutturale è finito il lavoro strutturale è la sismica la tenuta diciamo statica dell'edificio il tetto nuovo in legno che è molto bello che serve anche per l'acustica perché quello diventa un auditorium per la musica oltre che un luogo per tante altre cose convegni piuttosto che altro ma mancano ancora almeno due milioni e mezzo di opere di muratura di impiantistica e quindi c'è ancora tanto lavoro da fare l'assessore Pozzi che ha preso il testimone della vicenda mi assicura che le cose andranno come devono andare ovviamente incrociamo le dita perché questo è uno dei cantieri che più di altri ci ha fatto ci ha fatto arrabbiare sì quindi insomma i tempi sono difficili non dico più un tempo perché ogni volta che mi danno una data non le rispettate non le dico più invece però è chiaro che siamo alla fine del lavoro quindi non siamo all'inizio dobbiamo essere fortunati che vinca la gara una ditta seria a proposito di ditte perché poi gran parte del successo è dovuto alla ditta che vince i lavori Museo Nazionale della Motocicletta Museo Nazionale della Motocicletta è uno dei musei che siamo riusciti a farci finanziare in questi anni dal Ministero della Cultura non a caso il primo agosto verrà il Ministro Franceschini a Pesaro inaugureremo il Museo Oliveriano ma grazie a Franceschini abbiamo ottenuto finanziamenti per tre musei nazionali il primo l'abbiamo inaugurato nel 2019 il Museo Nazionale Russini che molti di voi avranno già visto bellissimo a Palazzo Antaldi il secondo è il Museo Nazionale della Motocicletta alla ex Tribunale in via San Francesco Museo Nazionale quindi non solo noi ospiteremo la collezione Morbidelli che in questo momento è ospitata grazie al Motoclub al Motoclub Enelli ma oltre a quella sarà il luogo nel quale i principali collezionisti d'Italia potranno in relazione col Comune e col Ministero mettere a disposizione i propri beni per il museo non esiste il Museo Nazionale della Motocicletta in giro per l'Italia cioè il Museo Nazionale della Motocicletta ci sarà a Pesaro il terzo Museo Nazionale che siamo riusciti a farci finanziare è il Museo Nazionale Dario Fo e Franca Rame qui a proposito di Campolargo c'è lo stampino dei 5 Stelle perché qualche anno fa il consigliere Lugli se non sbaglio vero Franci il gruppo dei 5 Stelle ha proposto di intitolare un luogo della città a Dario Fo e Franca Rame Vimini ha individuato il cortile di Palazzo Massolari da lì è nato un rapporto con la famiglia Fo con Mattea Fo in particolar modo e con la fondazione e loro insieme a Carlin Petrini che nel comitato nel consiglio di amministrazione hanno puntato fortemente affinché il Museo Nazionale si facesse a Pesaro l'archivio Dario Fo Franca Rame era è tuttora a Verona il Ministero pensava di fare il Museo Nazionale a Milano la famiglia la fondazione ha spinto per Pesaro ha spinto per Pesaro perché uno perché comunque Dario Fo ha fatto regia scenografia di tante opere del Rossini Opera Festival era stato direttore del Carnevale di Fano per diversi anni andava al mare a Cesenatico e quindi diciamo qui è una zona che conosceva e frequentava molto bene siamo vicini ad Alcatraz che è il cuore della famiglia Fo vicino a Gubbio e l'altro motivo è perché abbiamo convinto con un lavoro prezioso che ha fatto Franco Arceci anche qui isperato abbiamo convinto Agenzia del Demagno Ministero della Cultura a ristrutturare completamente Rocca Costanza per cui a Rocca Costanza non mi ricordo neanche più quanti sono i milioni dopo se volete lo andiamo a vedere abbiamo un finanziamento per 2 milioni e 3 solo il museo credo una decina di milioni in tutto per completare la ristrutturazione di tutta Rocca Costanza da una parte ci va l'archivio di Stato dall'altra parte ci va il museo Dario Fo e Francarame e il cortile interno il fossato grazie anche alla seconda uscita di sicurezza che realizzerà il comune con 300 mila euro verrà messo a disposizione della città anche questa è un'operazione incredibile e quindi sono 3 musei nazionali in 5-6 anni insomma non è poco mi sembra poco l'altra domanda l'altro tema qual era? basta ok proviamo a far vedere una scheda proviamo a far vedere no perché non voglio insistere ma ecco allora vedete Rocca Costanza sono 3 finanziamenti ottenuti clicca una qui trovate la scheda questa è la ristrutturazione generale 5 milioni di euro per spostare l'archivio di Stato a Rocca Costanza fa una clic un'altra 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 bagnerina 300 mila euro è la seconda uscita che deve realizzare il comune per rendere l'arena spettacoli agibile perché vi ricordate quel cortile l'abbiamo usato molto ma a un certo punto si è stato bloccato perché c'era solo un'entrata 2 milioni e 350 è per l'allestimento e la realizzazione dello spazio Dario Fo e Franca Rame ecco è molto semplice è anche un grande strumento di trasparenza perché a proposito di come vanno i cantieri la EMI la EMI Rossi e gli altri giornalisti di Rossini TV potranno automaticamente andare a vedere qual è lo stato dei lavori e lì troverete chi deve finanziare se il lavoro in corso quando c'è la gara d'appalto qual è il finanziamento se il cantiere si è bloccato quindi è anche uno strumento di grande trasparenza perché così non si nasconde niente si vede tutto ed è anche uno strumento per far partecipare la gente anno dopo anno nella trasformazione della città bella l'idea intrigante del sito peserochecambia.it dove i cittadini da casa antica ispirazione del primo movimento 5 stelle vedono guardano e controllano provo una sintesi depesaresizziamo la questione adesso provo una sintesi arrivano un sacco di soldi quanti dall'Europa non ne sono mai arrivati prima al netto della ferrovia mai detto sono 400 milioni quali comuni ha visto mai proporzioni del genere poi abbiamo appena iniziato perché questi sono i primi bandi che abbiamo vinto noi vorremmo vincere tanti altri la sintesi che ti propongo è arrivano un sacco di soldi c'è pericolo di non spenderli per essere più esatti depesarizzo la domanda gli apparati comunali gli impianti comunali gli impianti di pianta organica comunali il livello generazionale il know-how di chi si occupa della macchina amministrativa non rischia di rimanere schiacciato da una mole di lavoro del genere che nello stile europeo ha un cronoprogramma ha una tempistica devi rendere conto con rapidità dei tanti soldi che hai a disposizione che si può fare per velocizzare le macchine comunali di quella di Pesaro hai già cantato le lodi e i fatti ti danno ragione ma non tutto il mondo è Pesaro prima questione connetto con un'altra questione che prima hai accennato la questione che con l'inflazione la carenza delle imprese che hanno più guadagno a lavorare sul 110% che non a partecipare alla gara d'appalto dei comuni non è che 110% è un po' troppo sì adesso sì adesso sì in questo caso il Movimento 5 Stelle ma non solo il Movimento 5 Stelle non dovrebbe avere un atteggiamento ideologico auguri però io dico quello che penso lo sto dicendo da settimane perché anche qui quando io sono stato un grande sostenitore dei incentivi per l'edilizia perché se non ci fossero stati i sisma bonus il bonus facciate e adesso l'ecubonus 110 noi non avremmo rimesso in moto l'edilizia nel nostro paese fra l'altro un'edilizia sana perché trasforma il costruito l'efficiente dal punto di vista energetico quindi è stata una grande operazione dopodiché anche qui quando è stato istituito il 110 non c'era l'inflazione e adesso il 110 come giustamente ha sottolineato Draghi ha un effetto inflattivo produce inflazione è evidente lo capiscono tutti che è così ma oltre a quello io penso che se dal 110 oggi si abbassasse quell'incentivo all'80 al 70 noi comunque avremmo un incentivo per l'edilizia ma avremmo qualche ditto in più che fa i lavori pubblici e dall'altra io ritengo vedremo nei prossimi mesi se ho ragione o se sbaglio che va fatto un ragionamento molto pragmatico con l'Europa prendiamo l'Italia 220 miliardi di PNRR la metà più o meno a fondo perduto la metà a prestito se sono aumentati del 20% di media i cantieri vuol dire che in questo momento mancano circa a spanne 40 miliardi per l'aumento dei costi solo per il PNRR nell'ultima manovra è una manovra nei fatti l'ultimo decreto da 14 miliardi legge del decreto da 14 miliardi importante si stanziano 3 miliardi per l'aumento dei costi non solo per il PNRR ma per tutti gli investimenti dello Stato quindi c'è una distanza enorme da quello che serve per compensare l'aumento a quello che è stato stanziato allora siccome Draghi giustamente io dico non vuole fare nuovo scostamento di bilancio cioè nuovo debito pubblico come siamo stati costretti a fare durante la pandemia io credo che noi dovremmo fare un ragionamento molto semplice all'Europa dicendo noi non cambiamo il PNRR cioè chi vuole cambiare il PNRR è fuori dal mondo il PNRR ha fatto su 6 assi la sostenibilità la digitalizzazione l'istruzione eccetera non è che cambiamo il PNRR ma noi dobbiamo semplifico per capirci utilizzare 40 miliardi dei 220 magari nella parte a prestito per realizzare 180 miliardi di PNRR mi spiega ancora meglio invece di fare 100 scuole ne facciamo 80 ma le finiamo invece di fare 100 musei ne facciamo 80 ma li finiamo su un'impostazione del genere perché l'Europa dovrebbe essere contraria è un ragionamento di buon senso altrimenti quale sarà il rischio che più passeranno le settimane e più gli enti che devono fare le gare d'appalto si renderanno conto dei problemi che stiamo ponendo e a quel punto le soluzioni sono due o si blocca tutto o lo Stato per far fronte all'aumento delle materie prime dovrà fare scostamento di bilancio c'è un nuovo debito pubblico lo stiamo dicendo la settimana l'abbiamo posto al Ministro Gelmini che è quella che in qualche modo dialoga con tutti con gli enti locali per riferire a Draghi domani sarò Polozchigi proprio per questo aspetto perché vorrei far capire qual è il problema oggi ce ne siamo resi conto i sindaci perché siamo i primi che facciano le gare d'appalto in autunno ci saranno migliaia di gare d'appalto e se l'allarme che abbiamo lanciato sarà purtroppo fondato si blocca tutto quindi spero che che questo appello che abbiamo lanciato verrà ascoltato e che si prendano non si tratta di stravolgere niente si tratta di aggiustare le cose prendendo atto che l'inflazione al 7% cambia tutto già l'inflazione prima della guerra si poteva sperare che l'inflazione poteva essere una bolla ma con la guerra è evidente che l'inflazione sarà il problema numero uno per il 22 e probabilmente anche per il 23 e se ne stanno rendendo conto le famiglie che non arrivano più alla fine del mese quelli che arrivavano alla fine del mese con l'acqua alla gola all'ultimo giorno fino a dicembre adesso non ci arrivano più le imprese che continuano a produrre non hanno più margine cominciano a avere sempre meno margine e non assumono più a tempo indeterminato basta parlare con i nostri imprenditori l'altro giorno ero con Andrea a salutare a trovare i nostri immobilieri al salone del mobile a Milano tutti dicono abbiamo gli ordini ma non assumiamo più nessuno a tempo indeterminato con sto casino che c'è e quindi questo è quello che sta accadendo allora non si può perché si aveva un'idea l'anno scorso non rivedere quell'idea perché se non rivedi quell'idea la luce dell'inflazione del 7% sei fuori dalla realtà e siccome i sindaci sono molto dentro la realtà speriamo che il governo e il Parlamento ci ascolti e gli apparati comunali le assunzioni che mancano se posso dire anche in questo caso Maurizio incide l'inflazione perché infatti era un assisto sì bravo in alcuni casi il personale lo possiamo prendere dentro i bandi a tempo determinato in altri casi se non abbiamo i soldi per pagare le bollette come facciamo a assumere il personale il comune di Pesaro e qui come dire noi abbiamo la fortuna di avere una città storicamente anche in questi anni con un bilancio virtuoso e noi sai come abbiamo chiuso il bilancio 2022 con l'avanzo dell'amministrazione noi abbiamo approvato il bilancio a dicembre siamo una delle poche città che approvano il bilancio entro la fine dell'anno ci siamo resi conto subito che mancavano almeno 3 milioni 3 milioni e mezzo di maggiori utenze solo l'illuminazione pubblica è aumentata del 35% tutti gli edifici di proprietà comunali i musei gli asili le scuole le biblioteche gas luce è aumentato come per le famiglie identico come per le aziende siamo riusciti a convincere il governo nell'ultimo decreto da 14 miliardi hanno inserito questa possibilità almeno i comuni che hanno l'avanzo d'amministrazione fatto solo usare per coprire le maggiori spese se noi non avessimo avuto avanzo d'amministrazione noi avremmo dovuto oggi in città discutere di dove trovare 3 milioni e mezzo e sai come si trovavano? o si tagliavano i servizi sociali e i servizi educativi o si aumentavano le tasse locali quindi è chiaro che l'inflazione incide negativamente anche sul personale dopodiché sul personale fammi dire una cosa in platea ci sono molti dipendenti pubblici così a occhio io credo che il dipendente pubblico non sia come un altro dipendente il lavoro pubblico ha un qualcosa di etico in più e in un momento come questo il dipendente pubblico deve dare di più no di meno anche perché la crisi economica prima e il covid poi hanno dimostrato che nessuno ha più nessuna certezza né quello che lavorava in banca né quello che lavorava nell'impresa che sembrava impossibile fallire che falliva né l'imprenditore che aveva l'impresa edile né nel ristoratore né nell'albergatore gli unici che durante il covid hanno avuto la garanzia dello stipendio alla fine del mese sono stati i dipendenti pubblici allora questo aspetto va vissuto in senso etico è vero che per diventare dipendente pubblico ne parlavamo l'altro giorno con Biancani via a fare delle selezioni dei concorsi io ho mia moglie che sta studiando per la scuola insomma lei e tanti altri sono mezzi impazziti no? quindi è difficilissimo entrare ma nel momento in cui si entra per me essere dipendente del comune non è come essere dipendente di un'altra di un'altra attività è qualcosa in più dal punto di vista etico e di appartenenza certo non è che lo posso obbligare i dipendenti a viverla così però per me è così soprattutto in una fase storica nella quale ci siamo resi conto che nulla è sicuro per nessuno l'unica cosa che è rimasta sicura è il posto pubblico e quindi chi ha la fortuna e il merito di esserci conquistato il posto pubblico deve capire che nonostante che gli stipendi spesso non sono alti sono spesso bassi ha un ruolo nella società diverso rispetto agli altri cittadini allora una settimana fa circa sindaco lei è stata è stato a Parigi e Parigi ha recuperato un tracciato di una linea ferroviaria dismessa per creare un parco urbano una cosa similare accaduta a Valencia e anche New York nel 2009 ha inaugurato l'I-Line Park e anche qui l'idea è stata quella di togliere questa rete ferroviaria dal centro dalla zona centrale e arretrarla questo progetto una cosa simile lo vuole fare anche a Pesaro un progetto ambizioso sì c'è l'immagine di Valencia? no quella del fiume ce l'hai? non è questa quella cartina che non sei riuscito a tirarla giù Valencia parto da qui perché probabilmente qualcosa ha ispirato anche noi un'ispirazione è venuta da lì Valencia una città bellissima fra l'altro non so chi l'ha vista ma è una città molto bella Valencia è una città attraversata da un fiume che aveva grandi problemi di esondazione alla fine degli anni 50 primi anni 60 decidono di deviare il fiume in un canale artificiale verso il porto e quindi diciamo a lato della città non più in mezzo alla città gli amministratori dell'ora per me è sconvolgente perché stiamo parlando degli anni 60 dove la cultura ambientale non è quella che c'è oggi gli amministratori dell'ora decisero di non utilizzare l'alveo del fiume per la speculazione di listia per fare nuovi quartieri o per farci delle strade ma decisero di farci il parco più lungo d'Europa nell'alveo del fiume e l'alveo del fiume è diventato un luogo nel quale le persone ovviamente camminano vanno in bicicletta fanno sport e alla fine di questo fiume è stata costruita non mi ricordo in che anni la città della scienza la città della scienza di Calatrava che è diventato anche un monumento in piccolo è quello che noi vorremmo fare a Pesaro ovviamente legandolo in questo caso non al fiume ma alla ferrovia noi abbiamo la città attraversata storicamente dalla ferrovia e la ferrovia è puoi mettere la cartina nostra ecco la ferrovia è la linea verde se vedete no? quella è la nostra ferrovia la ferrovia da Bologna fino alla Romagna fino a Gradara è sull'interno poi da Gradara fa quella serpentina che vedete ed entra dentro Pesaro e da Pesaro noi abbiamo la ferrovia che va sul mare questo problema è questo tema e questo nodo è il nodo che oggi ci ha consentito di portare avanti una cosa insperata anche questa sembrava un sogno che invece gradualmente si sta trasformando in realtà perché l'alta velocità ha cambiato tutto ma l'alta velocità non è nell'asso adriatico l'altra velocità è Torino Milano Bologna Firenze Roma Napoli e adesso stanno facendo l'alta velocità da Napoli a Bari quando sarà finita l'alta velocità da Napoli a Bari nel versante adriatico lo dico a Maurizio che conosce a mena dito tutte le questioni delle marche non passa più nessuno vorrei che questo fosse chiaro e quindi in occasione del PNRR abbiamo come detto a Giovannini e a Draghi ma scusate ma la volete abbandonare la Bologna-Lecce perché stiamo parlando della Bologna-Lecce e loro invece hanno risposto mettendo 5 miliardi nel bilancio dello Stato dicendo non mettiamo soldi del PNRR perché non ci sono progetti pronti a partire e il PNRR deve essere speso entro il 2026 ma mettiamo fondi dello Stato il bilancio decennale dello Stato 4 più 4 5 più 5 non mi ricordo questi 5 miliardi servono a potenziare la Bologna-Lecce ovviamente a iniziare a potenziare la Bologna-Lecce la Bologna-Lecce non ci sarà ad alta velocità l'obiettivo è portarci la media velocità cioè sopra 200 km orari il progetto di Pesaro che noi avevamo elaborato adesso la faccio breve sennò diventa troppo lungo il racconto il progetto di Pesaro che noi avevamo elaborato 2018 è ritornato ad attualità perché quella quella serpentina fa il superare quella serpentina fa risparmiare in questo progetto 9 minuti cioè tutto il progetto che hanno è risparmiare un'ora da Bologna-Bari di un'ora da Bologna-Bari 9 minuti si risparmiano superando il nodo di Pesaro e quindi una cosa che sembrava impossibile perché costa un miliardo e due è diventata ad attualità e noi avremo il primo luglio il ministro Giovannini perché il nodo di Pesaro è dentro i 5 miliardi ma non perché noi ci abbiamo lavorato certo ci abbiamo lavorato tanto abbiamo fatto progetti ci abbiamo creduto abbiamo messo in campo una visione non abbiamo fatto il pianisteo nei giornali come ho visto spesso in questi giorni abbiamo lavorato ma non è che arrivano queste risorse solo perché ci abbiamo lavorato arrivano queste risorse perché a Pesaro c'è un problema perché la ferrovia rientra a Pesaro non rientra a Senigallia non rientra da nessun'altra rientra a Pesaro e quindi se si vuole velocizzare la ferrovia abbiamo risolvuto il nodo di Pesaro dico per i nostri amici in regione si parte da qui per questo dopodichè mi sono anche chiesto ma se invece di partire da Pesaro si partiva da Civitanova avrebbero fatto il casino o avrebbero fatto la festa in piazza io penso che avrebbero fatto la festa in piazza avrebbero fatto i titoli sui giornali che non è come fare la ferrovia bene però avrebbero festeggiato adesso il tema che noi abbiamo è quello come vedete perché siccome per loro il problema è superare no torno a vedere prima perché hai cambiato il tema era superare Pesaro loro hanno previsto solo Pesaro perché da qualche parte deve rientrare noi diciamo invece da qui di coinvolgere anche la zona di Fano almeno Fano perché Pesaro e Fano sono due città molto vicine ma per mettere dentro Fano servono 500 milioni e sapete chi va a Roma per cercare i soldi per i 500 milioni di Fano domani? che vinco se indovino no pensi che ci vada qualcun altro di quelli che hanno fatto il pianisteo o pensi che ci vada il sindaco di Pesaro? sono convinto che per aiutare Fano si è spostato il sindaco di Pesaro esatto esattamente a proposito di campanilismo stupido perché è un'occasione storica che se riusciamo ad ottenere al massimo sarebbe il top quindi siamo in una fase saliente il primo di luglio ci sarà qui il ministro Giovannini però perché abbiamo convinto il ministro Giovannini? perché come a Valencia non è che abbiamo detto dove c'è l'attuale ferrovia facciamo un nuovo quartiere di Pesaro facciamo una fila di grattacieli o dove facciamo dove c'è la ferrovia facciamo una strada no abbiamo detto che facciamo la green line e la green line che cos'è? un luogo per le biciclette per i mezzi elettrici sormontabile solo a piedi in bicicletta per essere chiari a Pantano si continua a passare sotto ok? non è che si passa sopra ma si può attraversare un elemento che ha diviso la città pensate a Cattabrighe Santa Maria delle Fabrecce Tombaccia il centro il mare è un elemento di separazione potrà diventare sormontabile e quest'idea della green line ha affascinato molto il ministro Giovannini che è anche ministro della sostenibilità provate a immaginare che cos'è cosa sarà lungomare sotto l'ardizio senza la ferrovia la ferrovia signora è questa ci arrivo eh quella viola e quindi è un progetto molto molto bello che a mio parere può essere davvero può essere davvero storico anche in questo caso non è che vi ho messo il libro di sogni cioè il ministro ha un quadro con ferrovia dello Stato dove è di 5 miliardi c'è un miliardo e due pesare ok bene la signora dice dove viene la ferrovia questo è stato l'elemento della discussione perché se noi avessimo proposto come all'inizio io ho fatto un arretramento troppo verso l'interno sia ferrovia che il ministero sarebbero stati contrari perché loro ritengono che allontanare troppo la ferrovia delle città fa perdere passeggeri a quel punto noi abbiamo proposto torna all'immagine quella più grande ecco bravo abbiamo proposto di un percorso a fianco dell'autostrada questa è l'autostrada e questa è l'interquartieri a fianco dell'autostrada utilizzando il corridoio dell'autostrada perché la nuova stazione è prevista a 2 km 6 dall'attuale cioè sostanzialmente sugli interquartieri e quindi in 2 km 6 si arriva con una navetta addirittura in bicicletta in 10 minuti in centro al mare qual è però il vantaggio che oggi noi a Pesaro non imbarchiamo un container con le merci perché la stazione è incastrata là non vedete mai un camion andare a mettere le merci lì qui nel polo logistico di fianco sostanzialmente tra l'interquartieri e il depuratore lì potremo caricare molte merci delle aree industriali di tutta la Vallata del Foglia e anche qui a proposito di dibattiti surreali magari passassero tutti quei treni merci nelle marche vorrebbe dire che avremmo avuto purtroppo i numeri non sono quelli che hanno detto quelli uno ogni 8 minuti magari io dico come prima non è così perché vorrebbe dire avere meno tir meno inquinamento ma quanti dibattiti abbiamo fatto negli ultimi 20 anni per dire bisogna spostare le merci dalla gomma sul ferro e una volta che c'è un progetto che li sposta noi siamo contrari perché passano troppi treni e e e che idea abbiamo dello sviluppo che idea abbiamo del porto di Ancona ma dal porto di Ancona le merci che escono che arrivano al porto di Ancona devono arrivare tutti con i tiro possono arrivare anche col treno ma che idea c'è di sviluppo regionale allora come vedi mi sto alterando si fai bene perché ti si legge tra le righe alcun qualcosa poi te lo chiedo perché no perché mi rendo conto che ci sta passando tra le mani una cosa storica e quando passano queste cose che non vedrò io non le vedrò queste sono cose per i miei figli per i vostri figli sono cose che verranno realizzate realisticamente tra 8-10 anni non vengono realizzate adesso ma quando ti passano tra le mani un'occasione così ricercata così sognata che può cambiare ambientalmente economicamente la città e la provincia e un pezzo di regione come si fa a far prevalere l'ideologia politica o siccome il ministro è uno di Draghi il sindaco è uno del PD e allora io che sono assessore di Fratelli d'Italia mi metto contro ma che visione si ha della nostra terra che irresponsabilità è dal punto di vista politico inaccettabile inaccettabile per questo mi scaldo facciamo le schermaglie sul resto ma non su queste questioni perché noi passiamo ma la città rimane e la città è di quelli che vengono non di quelli che ci sono stati la città dei giovani dei bambini è un amministratore che non ha in testa al futuro e butta mare occasioni storiche per il futuro come queste è un irresponsabile e io nei confronti dell'irresponsabilità e della stavo per dire un'altra cosa nei confronti dell'irresponsabilità mi arrabbio molto mi arrabbio molto perché non è una questione politica è una questione etica hai ragione Matteo la politica bella è quella appassionata perché sulla politica appassionata convinci le persone e dai un senso al fatto che le persone vanno a votare se la politica non è appassionata la gente si astiene e te eri talmente appassionato che tra le righe mi era venuta in mente una cosa tu hai detto a Giovannini della Green Line sto entrando in un campo non mio confondo i quartieri di Pesaro mi scuso in anticipo e Giovannini ti ha risposto dicendoti che la storia della Green Line l'affascinava tanto allora quella che dico adesso non è una domanda fammi una cortesia non mi rispondere è solo così un'impressione mia l'impressione mia è che tu con Giovannini ci hai parlato tanto la seconda impressione mia è che tu non gli hai detto solo della Green Line ma gli hai detto anche della storia che la serpentina si può raddrizzare non solo a beneficio di Pesaro ma pure a beneficio di Fano la terza impressione mia è che su questa storia c'è un varco capisco che tu non possa dire che c'è o che non c'è lasciami dire solo questa impressione un varco c'è una possibilità c'è una speranza cioè Giovannini è sensibile oh se vuoi rispondere dillo eh non ti voglio no per essere chiari i 500 milioni in più insomma allora anche qui adesso non voglio entrare nel tecnico ma perché c'è stata la confusione sul trasporto merci perché il ministro ovviamente 5 miliardi per potenziare la Bologna Bari non bastano no si va a nodi per dare una prospettiva però la tratta adriatica per evitare che la tratta adriatica venga isolata rispetto alla tratta tirrenica che è ormai centrale in tutto il trasporto persone e merci in Italia ha inserito la tratta adriatica nella rete Tenti sbaglio sempre Biancani mi corregge sempre dico Tinten invece Tenti che è una rete europea di infrastrutture diciamo che riguardano appunto le tratte principali europee perché è stato importante inserirla lì perché l'inserimento in quella rete consente allo Stato di poter intercettare fondi europei nuovi non PNRR per le infrastrutture secondo io dico se si smette di fare confusione e si comincia a ragionare sulle priorità che mancano tra parentesi dei 5 miliardi 1 miliardo e 8 vale Marche cioè Emilia Romagna Marche Abruzzo Molise Puglia le Marche sono quelle che prendono di più perché non ci sono solo il miliardo e 2 di Pesaro ma se si vuole essere seri si dice a Giovannini per noi la priorità io penso è Fano se non c'è se non ci sono fondi europei ci può essere anche la prossima legge di bilancio chiarissimo quindi se si hanno chiari gli obiettivi poi si vanno a cercare i finanziamenti ma se si fa la confusione non si parte con quello ottenuto e non si ottiene nulla di quello da ottenere mai risposto grazie allora adesso ritorniamo un po' anche alle cose un po' concrete al dibattito in città soprattutto relativo all'estate che è iniziata non ti sembrava molto concreto no concreto nel senso che parliamo di cose che verranno realizzate in un futuro speriamo prossimo ma in un futuro adesso io ritorno un po' con i piedi per terra e mi sposto verso Viale Trieste e siamo in una zona che vede un po' un dibattito un tra virgolette scontro tra coloro che apprezzano la Movida in questa zona di Viale Trieste quindi sto parlando dei ristoratori dei gestori di locali e coloro invece che sono gli albergatori e i bagnini che invece si lamentano di questo grande affollamento di giovani che a volte compiono razzie fanno chiasso eccetera quindi la soluzione era stata individuata sulla possibile potenziamento delle telecamere ma ci sono altre soluzioni più strutturali secondo lei cosa si potrebbe fare? Sì intanto anche qui bisogna avere una visione di città io penso che lo dico dal primo giorno che una città più vivace sia una città più bella e più attrattiva non è che una città morte più attrattiva ovviamente devi tener conto delle varie generazioni delle varie attività ma la linea è questa da subito abbiamo detto una città più vivace che riguarda il centro storico oggi parte San Pietrino domani via Passeri mercoledì via Passeri giovedì il corso riguarda il viale riguarda Baia Flaminia è complessivamente l'idea di una città più vivace o vogliamo tornare al mortorio no perché io penso che noi dobbiamo andare avanti in una città più vivace poi abbiamo avuto due mesi due anni di blocco siamo stati col freno a mano però io credo in una città più vivace con la gente in giro con la gente che mangia in giro dove si ascolta la musica dove si mangia dove ci sono attività che crescono che nascono eccetera più c'è un problema secondo me di sicurezza che riguarda i nostri giovani io la dico così per me prima di tutto c'è che i nostri giovani non si ammazzano per strada abbiamo avuto troppi morti in questa città troppi morti vi ricordate fino a qualche anno fa il sabato e la domenica era un necrologio il giornale a quanti funerali e quanto strazzo abbiamo dovuto assistere per giovani morti sulle silicate per andare a ballare per andare a divertirsi io non voglio più i morti per strada per me questa viene prima di tutto lo sa il perfetto per fortuna sono cambiate le abitudini i giovani non sono come quando ero giovane io sono più responsabili perché vanno col pullman si fanno accompagnare noi abbiamo guidato in condizioni pietose pietose e io non ero di certo uno sballato ero uno dei più tranquilli ma io quel film lì non lo voglio più vedere e adesso poi sono diventato anche genitore quindi i ragazzi che cominciano ad avere quell'età ma io non voglio più avere l'angoscia delle mamme che non vedono tornare a casa i propri figli perché sanno che sono in macchina a ballare a Rimini e a Riccione per carità ci vanno eh mia figlia ieri è andata a una festa a Misano ci vanno ma io vorrei che potessero trovare almeno d'estate girando in bicicletta frequentando i locali partecipando a qualche festicciola che ogni tanto si fa potessero passare il più possibile l'estate e il divertimento in sicurezza in bicicletta nella bicipolitana poi se uno è sfortunato può succedere di tutto uguale ma noi abbiamo ridotto di brutto le morti per strada negli ultimi dieci anni attraverso due politiche una banale è la politica delle rotatorie perché abbiamo avuto meno incidenti frontali e due la politica di vivacizzazione della città perché abbiamo avuto meno gente costretta a prendere la macchina per andarci a divertire per me da questo punto di vista non si torni indietro si può solo andare avanti dopodiché ci sono alcune aree dove occorre un controllo in più sì però tutto sto casino dai su ma che ci sia tra forze dell'ordine polizia municipale una pattuglia nei luoghi più sensibili abbiamo dato un limite di orario adesso giustamente Belloni e la Franquellucci hanno deciso di far mettere delle telecamere davanti a quei locali controlliamo ma oh attenzione dove li mandiamo quei ragazzi che vanno in viale dove li vogliamo mandare quindi accorgimenti maggiori controlli però neanche enfatizzazioni dei problemi poi c'è un problema generale riguardo ai giovani che riguarda il vandalismo ma il vandalismo è a prescindere dal sabato sera in viale il vandalismo l'abbiamo visto quest'inverno nelle scuole l'abbiamo visto nei parchi pubblici cioè i ragazzi sono quelli che hanno subito maggiormente gli effetti del lockdown e del distanziamento sociale c'è un problema psicologico in tanti ragazzi ci sono disagi nuovi e confermati c'è un problema di dipendenze vero anche in città droghe social altro se vogliamo parlare di questo parliamo di questo ma se vogliamo dire che i ragazzi che la soluzione per la città è tornare al mortorio spegnere tutto non far divertire i ragazzi in città dovete cambiare sindaco prima e siccome io rimango fino al 2024 fino al 2024 la linea è questa Maurizio ultima domanda non sarò così ovvio stai attento mi raccomando figurati non sarò così ovvio da domandarti cosa farai dopo il 2024 magari ci torno quando sarà ora con Emanuela ci siamo intesi con un'occhiata bravissima ti ringrazio grazie a te e abbiamo deciso di essere brevi quindi questa è l'ultima domanda dal mio versante intitolata in cauda venenum il veleno si mette nella coda io avevo sempre sognato di incontrare un dirigente del partito democratico per fargli la domanda che sto per fare adesso incontro il sindaco di Pesaro che è una cosa diversa però te la faccio lo stesso da sindaco la vesto da sindaco allora le marche e i loro partiti politici la Lega è commissariata dal 2018 Fratelli d'Italia è commissariato se non sbaglio dal 2019 Forza Italia tra il 2019 e il 2020 il Movimento 5 Stelle che io sappia non ha mai avuto una segreteria regionale adesso è commissariato anche il PD che si trova commissariato dopo aver rimproverato agli altri di essersi fatti commissariare e io mi domando la vesto da sindaco sindaco di sindaco di abbiate pazienza è l'età sindaco di Pesaro come si fa a fare il sindaco di Pesaro quando il maggior partito che ti sostiene è commissariato da un anno e rotti e lo dice uno che ha opinioni di sinistra lo sanno pure i gatti come la penso più in generale incontrassi un dirigente del PD gli domanderei ma come si fa a proporsi per governare le città le regioni e le nazioni in casi in cui non si è capaci nemmeno di governare se stessi scusa se sono troppo fantastico però se sei passionale tu so passionale pure io e così siamo pari allora come fai a fare il sindaco quando no non c'eravamo messi d'accordo ma vuoi scherzare no ma questa è roba che viene naturale a tutte e due come fai a governare cioè quanto è difficile la vesto bene quanto è difficile governare una città come Pesaro quando il maggior partito che ti appoggia da un anno a questa parte continua ad essere commissariato come respirano nelle idee gli amministratori se non hanno la sponda nobile e alta dei partiti politici con la loro capacità di fare intermediazione sociale di interpretare i pensieri i dolori le preoccupazioni e l'esperanza delle persone rischiate di rimanere soli chiedo scusa per il vigore ma tanto con te non ho problemi a far domande no non c'è problema grazie allora intanto a Pesaro nella difficoltà generale dei partiti perché la crisi dei partiti è una crisi strutturale da anni e purtroppo nessuno è riuscito ad inventare al momento una forma partito in grado di reggere in questa fase contemporanea ci hanno provato i 5 stelle con un'idea di diciamo democrazia diretta però abbiamo visto che ha dei grandi limiti non funziona più di tanto ci abbiamo provato noi a riorganizzare adesso si sta facendo l'agora alpi però ancora non è non è chiara al momento in Italia i partiti negli ultimi anni sono sempre più personali legati a forti leadership che poi come abbiamo visto passano il giro di pochi anni dalle stelle alle stalle quindi è proprio davvero una fase di grande cambiamento per tutte le forze politiche prima parlavamo della Meloni fino all'anno scorso era il 3% oggi viene data al 21% Salvini ha salvato la Lega nel 14% se non sbaglio superando il 4% all'Europea poi l'ha portata al 33% al 31% e adesso è probabilmente intorno al 13% al 14% 5 stelle uguali quelli che sono abbastanza stabili del PD sono intorno al 20% però anche noi abbiamo avuto la fase di Renzi che in un anno eravamo arrivati al 41% poi ci siamo arrivati al 18% insomma molto legati alle leadership personali qua da noi il PD nonostante i problemi che ci sono è un partito in discreta salute intanto abbiamo una bella squadra sia in comune che in regione perché insomma a proposito di regione qua sono stati eletti due consiglieri regionali Biancani e Lavitri con ottimi risultati Andrea è stato il più votato in assoluto per la seconda volta mi sa vero? per la seconda volta quindi come dire abbiamo ottenuto anche dei bei risultati abbiamo una bella squadra in comune magari non tutti sono del PD sono di liste civiche quindi quale cose vanno meglio che altrove nonostante i limiti e i problemi in regione è un casino in regione è un casino perché è una regione troppo frammentata troppo campanilista non si riesce ad avere forze politiche che hanno un'idea regionale questo vale per tutti i partiti compreso il PD il PD per anni ha provato ad averlo ma poi non c'è riuscito e adesso il commissario arriva perché litighi su tutto invece che discutere di ferrovia di porto di economia di turismo di sanità e quindi il commissario è il modo per salvare il salvabile è chiaro che adesso però bisogna ricostruire io spero che si riesca a ricostruire un po' alla volta anche se servirebbe probabilmente diciamo una maggiore capacità di tutti noi di arrivarci però ecco non confonderei il pesaro con il resto delle marche ecco per essere chiari no nel senso che noi abbiamo limiti problemi ce ne ci interroghiamo tutti i giorni però un conto il PD di pesaro è un conto il PD delle marche per essere molto chiari allora siamo arrivati alla fine grazie al sindaco se permettete due cose finali ok allora la prima è usate quel sito perché stasera abbiamo parlato di un del 5% delle bandierine che avete visto per motivi di tempo però di avere un sito ricchissimo c'è credo che sia utile che i cittadini sappiano quali finanziamenti abbiamo avuto e quali sono i lavori che partiranno o che sono già partiti io dico sempre che quando ci sono i soldi all'80% la cosa si fa è solo una questione di tempo deve essere sfortunato l'azienda piuttosto che altro e quindi stiamo parlando di cose emi molto concrete anche quelle più grandi sono molto concrete pesaro che cambia punto it l'altra cosa è vorrei che cominciamo tutti a concentrarci su il loghino che vedete nel tavolo che è la capitale della cultura perché la capitale della cultura è da una parte l'esito di una strategia che è partita da piazza mosca e che in questi anni con vimi ne abbiamo portato avanti con grande determinazione prima la città della musica e adesso la capitale della cultura ma la capitale della cultura deve essere anche questo un passaggio storico che cambia la città e cambia la provincia per questo abbiamo deciso di cominciare a giocarcela subito quel logo l'abbiamo portato le aziende al salone del mobile adesso chiederemo a tutte le aziende di Pesaro dalla provincia di Pesaro Urbino di adottare quel logo di metterlo nei loro simboli nei loro siti nei loro cataloghi nei loro social network nelle loro mail cioè facciamolo nostro quel logo dico le aziende ma dico i taxisti dico gli albergatori dico i baristi dico le associazioni dico gli ordini professionali cioè facciamo diventare quel logo la spilletta che ci mettiamo sul petto l'orgoglio pesarese di essere diventati capitali italiani della cultura perché dico questo perché noi non possiamo giocarci la capitale solo nel 24 noi dobbiamo giocarci almeno in un triennio e non a caso Daniele ha costruito un programma estivo straordinario straordinario perché è subito la capitale della cultura nel 2024 ed è un'occasione per tutta la provincia oggi abbiamo incontrato il direttore del museo nazionale di Urbino è un'occasione per Urbino è un'occasione per Fano ogni comune sarà una settimana capitale della cultura della provincia è un'occasione per la regione non è un'occasione solo per noi e quindi dobbiamo giocarcela bene perché se ce la giochiamo bene questa cambia la città ancora di più ci sono esperienze sulla capitale della cultura di città che se la sono giocate bene e città che non se la sono giocate al massimo Mantova che è stata la prima ad avere il riconoscimento della capitale della cultura ancora va dietro Mantova è bellissima patrimonio dell'UNESCO eccetera ma ha avuto una fase di flessione grazie alla capitale della cultura oggi dal punto di vista culturale è uno dei poli più attrattivi che abbiamo non vi racconto di Matera che cos'è Matera oggi che cos'è la prima della capitale della cultura anche se in quel caso era europea poi ci sono città invece che se la sono giocate poco e che magari non ci ricordiamo neanche che sono state capitale della cultura quindi il riconoscimento in sé vale poco vale un milione di euro fa ridere non è che lo Stato si impie di soldi per la capitale della cultura direttamente ma dal punto di vista del marketing territoriale dell'autorevolezza e della credibilità va un'enormità se ce lo giochiamo se lo promuove solo il sindaco e pochi altri se è la città la provincia che lo fa diventare dicevo le aziende perché deve essere figo mettere il logo della capitale della cultura nel proprio sito sono un'azienda che fa dei mobili straordinari fa degli oggetti straordinari e la nostra terra è questa la capitale della cultura allora se scatta quel meccanismo lì diventa un'operazione che cambia davvero la mentalità e cambia dal punto di vista turistico all'attrattività del territorio ognuno deve fare la sua parte lo dico perché perché il problema dei pesaresi è come il sindaco io sono il primo cittadino dei pesaresi quindi sono quello che interpreta maggiormente i difetti dei pesaresi no? prese i difetti c'è diffidenza all'inizio quando noi abbiamo cominciato a fare questo lavoro che anche questa sera abbiamo descritto quanta diffidenza c'era? ma do i vogi do i vogi sa che il logo coservirà è il city brand eh Donini anche in urbinate lo puoi dire te no? qui ci andavano i sottotitoli i sottotitoli per la traduzione loro hanno capito bene coservirà poi quando si è diventati città della musica ah allora non scherzano è l'UNESCO che ci ha fatto diventare città della musica quando con Biancani promuovevamo la bicicletta eccetera c'è avendo la bicicletta c'era mai mettendo a posto il book lestret no? e poi quando è stata l'Egambienta dici che è la città della bicicletta ma allora tant'è che l'ultima campagna elettorale ho avuto il problema con i quartieri più periferici perché giustamente dicono ma io che vivo a Vismara cosa sono? un cittadino di serie B che non ha la bicicletta quindi da problema o da cosa inutile è diventato un diritto e infatti adesso stiamo crescendo verso i quartieri più periferici e stessa cosa quando abbiamo con Vimini cominciato la capitale della cultura stessa cosa abbiamo avuto illustri giornalisti che hanno scritto che cocea pestre per essa città della cultura coce sarà a cosa ce l'ha paragonato? eh? ah dice se Pesaro è capitale della cultura un giornalista ha scritto messo il rettore di Hardware questa è la la diffidenza no? poi avrei voluto vedere la faccia sua di tanti altri il momento in cui invece Franceschini ha detto Pesaro capitale della cultura è uno scatto che avrei messo dietro la scrivania ma purtroppo nessuno nessuno ha fatto per dare l'idea che Pesaro siamo così diffidenti adesso però io vedo che questo orgoglio sta crescendo sta crescendo e per questo abbiamo deciso con Vimini di partire subito perché se riusciamo subito ad impostare un lavoro questa cosa può davvero crescere mese dopo mese anno dopo anno e via dicendo ovviamente il 2024 sarà l'anno in cui daremo il meglio però già quest'anno il prossimo anno vogliamo continuamente crescere così è a quel punto davvero una svolta economica sociale naturale che dà in qualche modo un segno che questi dieci anni di governo dentro i quali ancora siamo allora facciamo un applauso a Pesaro capitale della cultura 2024 perché tutti noi siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento grazie al sindaco di Pesaro Matteo Ricci grazie Maurizio Blasi davvero per essere stato qui con noi e grazie a tutti voi che siete stati in nostra compagnia buona serata grazie Maurizio grazie Emanuela grazie davvero grazie a tutti